bene cari amici di youtube oggi siamo in compagnia della mia lavatrice samsung che sta scaricando l'acqua dell'ultimo risciacolo e si prepara alla centrifugazione finale 800 giri oggi diciamo il video è concentrato sia su lei che su un'altra cosa loro sono tutte le audio cassette che ho a casa che ascolto ancora a casa nonostante in macchina oramai siamo passati alle ai lettori cd adesso anche mp3 oramai il cd è superato sono tutte le cassette che legge il mio stereo sharp vediamo un po la samsung che punto è il bilanciamento sta procedendo vediamo se riesce a partire subito e da un po vediamo se stavolta ce la fa qui abbiamo un bel carichetto di bianchi che faremo penso dopo perfetto direi che la centrifuga dovrebbe essere in avvio il rumore che si sente dovuto alla pallina al dosatore del liquido che sbatte contro il vetro dell'oblò e la centrifuga è partita perfettissima bilanciatissima torniamo un attimo alla visione delle cassette anoxa e fiba questa è una cassetta con una raccolta dei beetles questa è una cassetta con delle basi di batteria per chi vuole iniziare a studiare lo strumento cassetta pulisci testina per lo stelo parlo che ventano luciano l'idabue vasco rossi come si vede qua questa è una cassetta anni 60 una cassetta di canzoni miste questa è una cassetta di musica new age seguiamo che la samsung è partita ha avviato la centrifuga a tutti insieme Grazie. Dedico questo video a tutti quelli che mi seguono, quindi appassionati di lavatrici e appassionati di audiocassette. Grazie per la visione e a presto con il nuovo video. Grazie. 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 Grazie.